Come tradizione il convivio di persone e conoscenze si apre con colloqui dove affronteremo, declinato da diversi punti di vista, l'argomento che quest'anno è la fiducia in se stessi. Inizieremo con Ikijuro Nonaka, un maestro del management giapponese, che parlerà di come è importante per il manager la saggezza. Poi dopo con Franca Fiacconi, una maratoneta, parleremo dell'allenamento, dell'allenamento del continuo tentativo di superare se stessi. Poi con Giampiero Quaglino parleremo dell'individualità, di come si può portare alla luce il nostro modo di essere profondo e che poi è la nostra cifra personale nell'agire in quanto persona, in quanto manager. Riprenderemo il giorno 25, iniziando con Oscar Farinetti, imprenditore, che parlerà attorno, prendendo spunto, dall'argomento di un suo libro recente che ha per titolo serendipiti, la serendipità e questa attitudine di sapere scoprire cose su argomenti di cui teoricamente non conosciamo niente, ma nell'ambito dei quali proprio per questo riusciamo a portare qualcosa di nuovo. Poi con Marina Salomon, imprenditrice, parleremo della potenza dei nostri stessi sogni, di come partendo dai sogni riusciamo a creare cose che altrimenti non riusciremo neanche a immaginare di essere capaci di essere capaci di creare. Concluderemo poi con Andrea Zoc, che è un filosofo, dove parleremo del liber arbitrio, della capacità di occupare spazi di libertà.